Assessore Giuseppe Speranza, stamattina la presentazione di October Sport, un mese di ottobre all'insegna dello sport nella città di Torre del Greco, tanti gli appuntamenti in programma. Ad iniziare da domenica prossima, domenica 3, avremo il Vesuvio Mountain Bike Race, una manifestazione a gara che parte da via sopra i Camaldoli e si concluderà nella struttura di Valle dell'Orso. Sarà una giornata piena perché è prevista la partenza intorno alle 9, la partecipazione di circa, se ho capito bene, 500 atleti, impegna circa un migliaio di persone tra giudici di gara, collaboratori e staffettisti che praticamente interesseranno tutto il percorso che vada allo stradello all'interno del Parco Nazionale del Vesuvio perché il percorso interesserà tutti i comuni vesuviani. Praticamente sarà una gara della durata di circa 4-5 ore. Un'attività molto entusiasmante, a dire la verità, io è la prima volta che parteciperò e quest'anno addirittura anche da amministratore, quindi anche io sono entusiasta di ospitare questa manifestazione che a carattere nazionale vedrà l'arrivo di atleti da tutta Italia, se non addirittura dalla Svizzera e pare qualcuno anche dall'Austria. Poi si prosegue domenica 10 ottobre con il ciclo turistica dei Due Mari, Adriatico-Tirreno. Sì, ciclo turistica dei Due Mari coinvolge atleti provenienti da Manfredonia e da tutto il percorso, da Benevento a Vellino, quindi noi ospiteremo a Torre del Greco questa manifestazione che è una ciclo turistica. Perché ciclo turistica? Perché all'arrivo i partecipanti troveranno degli addetti ai lavori che li porteranno a far visita in alcuni luoghi della nostra città. In primis il Palazzo Baronale che è la nostra sede istituzionale. Qualche visita la faremo anche sicuramente in Santa Croce al nostro Santo Vincenzo Romano e qualche visita anche, credo, giù a Sant'Anna a visitare gli scavi archeologici che sono siti all'interno della struttura. Quindi questi eventi sportivi saranno anche l'occasione per promuovere il territorio? Devono essere gli eventi sportivi un momento di promozione del territorio. Un territorio che negli ultimi tempi è rimasto un pochettino, voglio dire, sconosciuto anche alla città per i noti motivi di lockdown che stiamo ancora in parte subendo e stiamo ancora in parte registrando. Quale migliore occasione per offrire agli stessi cittadini torresi e a chi viene da fuori questi momenti culturali che sono veramente interessanti? Un altro weekend all'insegna dello sport sarà quello di sabato 23 e domenica 24 con il Giro in Rosa della Campania. Perfetto, il Giro in Rosa della Campania prevede una due giorni. Giorno 23 Raduno al Sagura dove partirà la crono scalata per il Vesuvio. La riterrei una manifestazione dei due comuni perché coinvolge Torre del Greco e del Colano. Una manifestazione molto attesa già da tempo perché in qualche altra intervista l'abbiamo già preannunciata e quindi vede coinvolti tanti atleti, in particolar modo atlete in Rosa. Giorno 24 avremo l'arrivo finale della tappa a Torre del Greco per poi dirigersi verso Grumo Nevano in pomeriggio. Colgo l'occasione per invitare la cittadinanza, sarà un momento di condivisione e sarà un momento di occasione per tutti.